Bene ragazzi, qui M200Gin e sono qui per presentarvi un progetto insieme a dei miei amici, ovvero iFraxMiki Ciao a tutti M200Powl Bella Versus Arte Bella Questa è una particolare munizione su favela dove riesco a prendere una carica nucleare solo con lo spazolici e senza usare ricompense Facendo però spawn kill con dei miei amici L'essenziale non è tanto il gameplay ma la presentazione di questo nuovo progetto Cioè abbiamo creato un canale di sponsor chiamato Oblivion Theater Dove sponsorizzeremo montaggi, gameplay, tutti i giochi, grafici, ovvero un po' di tutto Ora cedo la parola a Miki che vi approfondirà un po' il progetto Niente allora come già detto da Jin abbiamo creato appunto questo canale di sponsor E abbiamo intenzione di sponsorizzare grafici, gameplay di Call of Duty ma non solo Anche di altri giochi, montaggi e cose varie Per essere sponsorizzati dovrete contattare me e Jin e vi diremo cosa dovrete fare Probabilmente ci dovrete mettere in subbox e poi noi caricheremo il vostro video sul canale Niente posso cedere la parola ora a Versus Arts che vi parlerà dei suoi progetti personali E probabilmente ci darà anche una mano con la parte grafica del canale Se vorrà Vai Dario Sì, in questo progetto io farò la grafica essenzialmente e Miki e Jin caricheranno un po' i miei video Insomma E per quanto riguarda i miei progetti ho appena concluso, ho appena editato un montaggio per M200Z Ace Che potete andare a vedere sia sul mio canale, sia sul canale di M200, ovvero M200 State Sia sul canale personale di M200Z Ace E' stato il mio secondo mini edit E ringrazio a tutti chi l'hanno visto E per chi ha lasciato un piace in uno dei tre canali I miei prossimi progetti saranno Stavo pensando di continuare i tutorial dopo che sarò tornato dalle vacanze E prima di partire dalle vacanze avevo intenzione di fare un contest editing Ovvero lasciavo, prima che partiva appunto, delle clip Delle mie clip di scarto Che praticamente tutti voi potevate editare ed esercitandovi E inserendo come video risposta al video Il più bello verrà pubblicato sul mio canale E riceverà in mesi di subbox o anche di più Boh, dopo devo decidere Comunque editati saranno Vi dirò, cioè, spiegherò meglio questo progetto in un video sul mio canale Quindi non perdetevelo Ora vediamo M200XPOWL cosa ha da dirci Ciao a tutti ragazzi Come progetti già usciti posso dire che ho fatto un solo video Perché da poco più di una settimana che sono entrato nel clan Il video si chiama Sensitive V3 Perché gli altri due erano fatti con l'account vecchio Che potete trovare sul mio canale E progetti futuri saranno Sensitive V4 E un serio contatto o un più alveggio con qualcuno del clan Poi vi farò sapere con più dettagli Adesso ripasso la parola a Jim Che vi spiegherà ancora meglio questo progetto Che seguiremo anch'io E gli aiuterò nel canale Sì, praticamente l'artista art è fantastica E non è un'artista Che vi faranno proprio contro l'estetica del canale Sì, tra adesso non sappiamo un po' E se non potete utilizzare solo italiani E personaggi anche dall'estero Ma penso proprio di sì Potete inviare tutto che dire Comunque il gameplay è tutto il mondo E bovi, l'altro gameplay Perché se non capite via Parlo dei gameplay Di che cosa stavi usando in un'altra chica Vabbè, sì, hai ragione Stavo usando lo spazio Maratona Scusate ragazzi Un attimo di denirca Stai Jim Stai usando lo spazio Maratona All'inizio Volevo fare Flip belle Non mi sono venuto Eh, non mi sento niente Vabbè, qualche quattro Io ho fatto Dunque, pensavo di mettere Il mio montaggio studio Eeeh Devrei fare anche Un due archetto All'inizio Non volevo tirare Poi ho visto che anche Un manito del gruppo Ziki La stava per prendere Allora ho deciso di tirarla Se no mi rovinava un po' tutto Qua ho il primo round Quasi Per metà L'ho tagliato Perché se no veniva Troppo lunga la partita E ci metteva anche troppo a caricare Poi deve ancora renderizzarla Quindi Non so quando lo caricheremo Eeeh Comunque la partita Sta per finire adesso Sì, manca Minuto e mezzo Eeeh Buong Penso di aver finito Voi dovete dire Qualc'è da Niente ragazzi Allora Se vi è piaciuto il video Mettete un mi piace Che ci farà molto piacere Iscrivetevi al canale Se avete intenzione Di essere sponsorizzati Contattate me E M200Gin Ce l'ha preso Sicuramente Esatto Chiederemo a qualche Qualche grafico Dotato Di Crearci una intro personale Niente Iscrivetevi anche al canale Di Clima Per ascoltarci Di Paul Al mio no Perché non facciamo Niente Seguiteci Se vi è piaciuto il commentare E risultate Ma che posso Perché Io alla fine avevo Voluto tirare La seconda Carica nubiare Senza di consenso Però Un bel paio di palle A farlo Sono ammazzato Un cazzo di merda Con lo stile Dopo avermi impeccato Grazie Grazie Per il momento Può bastare I maggiori dettagli Vi inseriremo Nella descrizione Del canale E se avete dubbi Con i nostri canali Se avete dubbi Contattateci In privato La grafica del canale Come ha detto È ultimata A breve Per il momento Vi invito a iscrivervi E a consigliare il canale Ai vostri amici Con questo Credo Che abbiamo detto tutto Vi lasciamo La prossima Un saluto Da Verso Stars M200g 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 Comunque ragazzi Non pensate C'è non Finito